Sì, 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 sì. Sì, ci arriva, no? Sì, sì, mi vado a dire, grazie. Perché mi sa di una scusa, c'è una prima volta che la prendo e ho detto, però ok, sta andando sotto la pinza, è andato fuori, sta andando fuori, ma no, una giocata sarà finita la domanda. Next door, adesso, in rispondenza, con auto, 173, per l'intervento, la scelta, 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 la scelta. La scelta, 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 la scel No, 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 no. Prossima fermata, next stop, Procenca. Lo puoi fare della minimum, Prossima fermata, Prossima fermata, Moderna fermata, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.